E' un tema di cui la Questura si sta occupando sempre di più. La violenza domestica in provincia di Belluno rimane un problema sotto osservazione. C'è stato indubbiamente un certo aumento. L'aumento è collegato anche all'emersione di questi fatti, che ora vengono più regolarmente denunciati. E parliamo quindi delle aggressioni violente alle donne nell'ambito per lo più di violenza cosiddetta domestica, cioè nell'ambito di un contesto relazionale. Chi ha necessità di denunciare deve sapere di poter contare sulle misure di prevenzione che possono essere messe in atto a livello generale per mantenere gli autori di reati lontani da determinate aree. La misura di prevenzione si rivolge, colpisce, il soggetto che noi, sulla base degli elementi di fatto, circostanziati, eccetera, consideriamo pericoloso, pericoloso per l'ordine della sicurezza pubblica, cioè capace di commettere reati. Su questi soggetti noi abbiamo una particolare attenzione e io ho chiesto fin dall'inizio un grande sforzo per individuare queste situazioni e per poter emettere a mia firma, sempre e ogni volta che c'è la possibilità, provvedimenti di misure di prevenzione, siano essi a visi orali, siano essi DASPO o DACUR, cioè i famosi DASPO urbani che limitano l'accesso alla frequentazione di determinate zone, siano essi i provvedimenti che vanno a colpire preventivamente i possibili autori di fatti di stalking o di violenze domestiche.